fiat oggi sono qui in un video per farvi vedere che andrò a seminare i cereali queen andrò a seminare diciamo i grani allora ok qui praticamente cosa ho una spighetta di grano guardate che spighetta che ho di grano qua ecco di grano praticamente dell'anno scorso di farro dell'anno di questa è una spiga di farro dell'anno scorso che ho recuperato dove hanno seminato il farro diciamo me l'hanno data ecco in un posto diciamo dove seminano il farro che conosco mi hanno dato una manciata di spighe ciao mi hanno dato un po di farro in più ho acquistato sempre io ho acquistato adesso non importa la marca però ho acquistato queste due varietà qui ho acquistato queste due varietà qua che vi faccio vedere ora vedete eccoci qua uno è orzo ordeum vulgare che è questo guardate questo qui è l'orzo e quell'altro invece è il farro vestito farro vestito più all'interno qui ci ho messo una ci ho messo il farro come stavo dicendo prima che è un farro di varietà monococco se non erro dovrebbe essere così qui vedete c'è il farro vestito che è questo vedete questo è il farro vestito questo qui è il farro vestito e poi qui all'interno c'è anche del c'è anche come stavo dicendo prima c'è l'orzo l'orzo ha questo semetto qua vedete questo qui è il seme dell'orzo spero che riusciate a vedere bene che questo qui è l'orzo guardate questo semetto qui ho fatto la mia miscela quindi ho praticamente miscelato all'interno scusate qui ho miscelato all'interno qui farro monococco quindi il farro coltivato l'anno scorso quindi che mi hanno dato poi ho il farro vestito e poi ho l'orzo che è una varietà Ardeum vulgari che comunque è un orzo classico adesso voi mi dite perché stai seminando adesso i cereali che siamo a dicembre fa freddo perché mi sono arrivati adesso i semi e quindi ho deciso di seminarlo lo stesso è una prova un esperimento comunque sono pochi metri da fare costranno un 2 metri neanche per un 60 centimetri della larghezza quindi è uno semplicemente una prova di una prova sperimentale che voglio fare questo cosa cosa mi vuole dire allora le buste le due scatolette qui non vi dico quanto la pagate comunque non importa erano da 100 grammi luna quindi 200 grammi di semente acquistata più la semente che avevo che ho recuperato io che mi hanno dato praticamente che praticamente se vi racconto la storia praticamente dove lavoro io in questa cooperativa diciamo praticamente abbiamo seminato il farro l'anno scorso e poi mi sono tenuto da un po mi hanno mi sono fatto dare un po di semente comunque ecco farlo diciamo di varietà farlo diciamo di seminato e già riseminato parecchi anni quindi praticamente è un farro già adattato più o meno a quei terreni la ecco poi ho comprato questi due scatolette qui adesso cosa vado a fare lo vado a seminare si è un po tardi come mi direte però comunque mi sono arrivato adesso i sementi e soprattutto lo voglio seminare è poca poca roba è un esperimento lo proviamo a fare cosa cosa ho fatto qui qui non ho concimato il terreno qui c'era il sovescio ho sfalciato tagliato il sovescio con un diciamo con una lama ecco tagliato il sovescio l'ho interrato con due fresature piccole fresature e adesso semino poi passo il rastrello e poi copro con del terriccio universale adesso iniziamo a seminare la semina non importa come la facciamo ma importa diciamo non importa che andiamo a praticamente a distribuire la semente tutto uguale cerchiamo di fare ovviamente prima copriamo tutto il suolo e poi si avanza semente ripassiamo di nuovo facciamola un po fitta la semina perché comunque i semi che teniamo noi dagli anni scorsi magari non nascono tutti e un'altra cosa da dirsi è se la facciamo un po fitta magari contrastiamo anche le erbe infestanti ora mi attingo a ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un grosso problema. Cerchiamo di interrare un po' i semi così. Allora, ho seminato tardi, sì, ok. Mi dovevano arrivare i semi che avevo ordinato e ho seminato tardi, va bene. Sono d'accordo con voi che ho seminato tardi. Non è un problema perché comunque dovrebbero riuscire almeno a germinare e poi fermarsi là, però vedremo i risultati. Potrei anche coprire con del tessuto o non tessuto, potrei fare altre mille mille prove, ma comunque proviamo insieme, vi aggiornerò. Perché ho deciso di seminare i grani e perché è il primo anno che li coltivo? Allora, è il primo anno che li coltivo, sì, quello è proprio vero. E ho deciso di coltivare i grani o i cereali, quindi in questo caso orzo e farro di due tipi, quindi farro monococco e un altro farro vestito. E non ho trovato la semente del frumento perché comunque mi sono deciso di seminare i grani un pochettino tardi, quindi non ho avuto la possibilità di trovare il frumento. Perché voglio decidere? Perché voglio iniziare in piccolo spazio o in grande spazio, in piccolo spazio per adesso che comunque va... Va molto bene, voglio iniziare a fare la popolazione evolutiva dei miei grani, quindi una popolazione evolutiva vuol dire un miscuglio di più varietà di grani, quindi della stessa... praticamente una multivarietà di grani, quindi in questo caso è praticamente una varietà di una famiglia grande di cereali a paglia, quindi cereali che producono la paglia di orzo e avena, in questo caso partiamo con questi. Ma poi negli anni successivi, ovviamente, non è... negli anni successivi, come stavo dicendo, voglio cercare di ampliare questa popolazione evolutiva, quindi voglio provare a cercare di ampliare, quindi cosa vuol dire? Voglio cercare di fare praticamente allargare, quindi introdurre all'interno di questa popolazione evolutiva altre popolazioni, e quindi nel caso potrebbe essere introdurre all'interno, diciamo, delle varietà diverse, quindi magari, che ne so, il grano senatore cappelli, per farvi un esempio, sono delle varietà diverse, il grano senatore cappelli, oppure possiamo dire anche il, magari, che ne so, il grano gentil rosso, insomma, altre varietà di grani che magari qualcuno vi dà, che magari potete ricevere in dono da qualcuno, ma nello stesso tempo magari potete anche, soprattutto, andare ad acquistare, magari in piccole porzioni, magari in piccole quantità, aggiungerle insieme e anno dopo anno aggiungere sempre più varietà per arrivare ad avere, magari, un grano con molte varietà. Vi racconto solo che ho seminato dove lavoro io, quindi ovvio ho seminato un grano, diciamo, di una popolazione evolutiva, molto, molto, molto antico, più che antico, diciamo, è una popolazione evolutiva che ha molta storia, quindi, praticamente, non è altro che un miscuglio di grani e di cereali dove, praticamente, ci sono molte varietà e rendiamoci conto che la chiamano la varietà, oppure la chiamano varietà 108, quindi vuol dire che c'è un 108 varietà. Arrivare ad avere 108 varietà, anche in un pezzettino piccolo così, non è per forza bisogna avere una grande campagna, anche in un pezzettino piccolo così, avere 108 varietà, cavoli, è una grandissima cosa. Riusciamo ad avere un grano che, comunque, ha una storia dietro, un grano che, comunque, parla, che, comunque, ci dà qualcosa da dire e non quei grani che comprano dalla multinazionale, comprano un sacchettino da 10 kg di semente da seminare sulla campagna dove ogni singola pianta è uguale all'altra, ecco. Iniziamo, partiamo, se mai partiamo, mai iniziamo, ecco. Io ora, vedete che c'erano ancora semi scoperti fuori terra, io ora mi prendo il mio sacchetto di terriccio universale, gli faccio una bella spolverata sopra, una bella spolverata sopra, copro il tutto e poi lascio stare. Se dovesse gelare non è un problema, potrei coprire anche con del tessuto o non tessuto, quel TNT classico, per poter fare in modo di, magari, se fuori fa meno uno o meno due gradi, magari sotto si tiene a un grado, ecco, giusto, non ghiaccio il terreno, però non è un problema, ecco. Niente, da poi lo Fiat è tutto, io vi saluto e niente, buona semina anche a voi dei vostri cereali.